Il motociclo è impattato sulla fiancata dell'auto e definito nel fosso lato carreggiata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte che ha subito soccorso il Centauro, un 42enne di frazione Boasca di Quornier. Ferito, ma non grave, è stato trasportato all'ospedale di Quornier, illeso il conducente della vettura. Nei certamenti sulla dinamica sono a cura dei carabinieri di Locana e Aglie. Grazie!